cari amici l'autunno è arrivato oggi il tempo è quello che è anche se laggiù vedo una leggerissima schiarita la mattina ha l'oro in bocca per cui comincerei direttamente da luca di empower è un'ottima idea passare da luca a quest'ora perché loro durante l'arco della mattinata sbrigano già tutte le scartoffie sono super operativi il mattino presto la mattina e niente via prima di fare un salto da luca vado un attimo a dare un bacio alla mia bambola insomma ci vediamo tra poco nel giro di due settimane questa smart sarà finita e mi dedicherò interamente a te come and down like precipitation i ain't never met a limitation pay the plot in my elimination gotta go to google for the information i'm a superstar so i gotta shine top dollar be the bottom line bottom feeding niggas out of line turn your heart rate to a dotted line yeah my zodiac probably dollar sign got the energy to winning my nigga i'm feeling great gotta dig with that see me focusing on my fate i don't give a fuck what you rapping you been a fake i'm everything that they ain't you can't be it won't be wanna see me fall i can't go i won't leave come in front of the block we're playing clothes and police straight up to the top we're bankrolls and rollie ride with me if you ride with me you can slide with me if you feel like five fifty on the five stick you can get high with me that's a deal right è mezzo giro quando iniziamo il lavoratore eh vabbè secondo me starà facendo colazione considerato che sono le undici starà facendo la terza colazione a certo punto finalmente luca arriva e niente chiacchierando così tra un tra una cazzata e un'altra passa barbara chiappini c'è passa proprio di fronte alla serranda di di empower tra l'altro sorridendo quindi dovevate vedere la faccia di luca in quel momento non avevo il telefono in mano non l'ho potuto riprendere però comunque il risultato poi è stato è stato è stato incredibile che lui è rimasto muto zitto cioè lei era proprio carina e quindi lui vabbè ciao è passata di qua era lei era lei era carina noi che abbiamo detto niente ciao lei pure sorriso ha guardato dentro ha incuriosito spaziale cosa stratosferica ciao è passata in fenombra quindi da là verso di qua le forme tipo la classica 90 60 90 una cosa stambiata e lui con la faccia da tordo e lui con la faccia da tordo praticamente c'è ciao ma porca puttana ma che cazzo è alle 11 del mattino non ci siamo qua carburiamo dopo le 3 del pomeriggio è venito prima la mattina cioè sai che fregna rara che è passata prima è anche il tigre beh considerato che è l'una meno un quarto ci siamo tutti non ci credete al soli 13 oh ragazzi all'apprazzo cosa è questo lo schermo lo schermo di che il pc lo compro a capo ah no ma non ci credo se lo devono portare da casa stichetti io mi sono portato il computer proprio da casa ognuno c'è il suo questo è un po' autogestito è un po' autogestito questo mi sembra chiaro è tipo quando a fox tv su via salari a suo tempo quando ancora era aperta veniva dato l'obiettivo poi uno poteva venire pure alle 4 di mattina a lavorare basta che raggiungeva l'obiettivo dovevi consegnare a fine mese e noi consegniamo sempre manca l'obiettivo io vengo a lavorare da le tre del pomeriggio ho sempre detto che voglio fare nella vita voglio guadagnare poco ma me voglio svegliare tardi io voglio guadagnare poco ma me voglio svegliare tardi io mi guadagnare del pomeriggio e lui la mattina lei è necazzata per denare un po' è necazzata